Sono stati importanti questi amichevoli per noi, adesso dobbiamo riprendere il più presto possibile. Sono state tre partite difficili, buone per riprendere tutto quello che dovevamo riprendere. Adesso dobbiamo tornare a casa, abbiamo un altro amichevole e trovarsi pronti. Dal punto di vista del lavoro sul campo e in allenamento, che cosa vi ha dato questa settimana in Portogallo? Sono stati importanti per noi, per capire quello che dobbiamo aggiustare e quello che dobbiamo fare ancora meglio di quello che facevamo prima. Adesso stare attento a tutto quello che dobbiamo fare e andare forte. Anche perché Roger mancano poco più di dieci giorni alla ripresa del campionato, con la Roma che ripartirà forte, ti chiedo come sta la squadra, anche perché questa squadra ancora è lotta su tutti i fronti. Sì, la squadra secondo me sta bene, sta provando di andare il più forte possibile, abbiamo degli obiettivi da raggiungere e dobbiamo andare forti su di qua.